Grazie a tutti. 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 Seconda gara con questa splendida bambina che vediamo qua, stai prendendo sempre più mano, più competenza? Sì, seconda gara abbiamo migliorato tanto, abbiamo migliorato la guida con il cambio che è molto difficile da guidare. Non è una macchina facile, non è una macchina facile, però con il tempo miglioreremo tutto quanto. e tutti i suoi, è un'altra parte di cui è un'altra parte di cui è stato un'altra parte di tutti gli amici che mi seguono. ok un saluto a te e tutti i tuoi amici ciao 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 siamo al gruppo 1 Italia classe 1150 il podio più alto è del numero 14 Giuseppe, Achille e Lisoni amma che bulla di tifosi che hai Giuseppe un applauso per il nostro Giuseppe settimo agli scacchi il numero 14 Giuseppe, Achille e Lisoni sesto assoluto il numero 5 Agostino Farrara